Benvenuti, mi fa molto piacere incontrarvi. Cosa hanno in comune tre dei più noti imprenditori al mondo degli ultimi anni? Steve Jobs, Apple, Bill Gates, Microsoft, Jeff Bezos, Amazon. Sicuramente la capacità di rompere gli schemi e provare nuove strade. Per farlo hanno imparato a superare i propri limiti, non hanno avuto paura del fallimento. Per farlo hanno imparato da giovani. Con le loro invenzioni hanno cambiato il mondo, stravolgendo per sempre le nostre abitudini di vita quotidiana. E non occorre essere degli imprenditori di fama mondiale per farlo. Tutti i ragazzi possono farlo, se sapranno prepararsi al cambiamento. Grazie anche a esperienze come l'iSchool all'estero, in grado di influenzare per sempre la vostra crescita personale, scolastica e professionale. E perché no, anche il futuro del nostro paese. Che cos'è che imparerete? Una lingua straniera? Certamente, ma non solo. Imparerete le abitudini di un altro paese. Imparerete ad immergervi totalmente in una cultura diversa, per poi tornare migliori. Perché vi sarete messi in gioco e, soprattutto, tornerete con una marcia in più rispetto agli altri. Perché oggi, essere pronti al cambiamento, significa essere pronti a crescere. Ma che cosa intendiamo noi per crescere? Crescere significherà tornare a casa diversi, maturati. Crescere significherà aver compreso come abbattere le barriere e i preconcetti che potevano esistere prima della partenza. Ma soprattutto, crescere significherà guardare le cose con angoli diversi e vedere la diversità non come una minaccia, ma come un'opportunità. Tornerete a casa come persone migliori, perché avrete imparato sulla vostra pelle l'importanza di essere accolti con amore e ospitalità. E perché possiate, in futuro, essere voi stessi esempio di questi valori con gli altri. Cambiano le generazioni e cambiano le abitudini, così come nella moda anche la formazione ha le proprie tendenze. Negli anni 70 era avanti, ma andiamo i propri figli all'estero per una vacanza studio, che ha portato Study Tours ad essere la realtà internazionale che oggi tutti noi conosciamo, presente in nove nazioni. E dopo quasi 50 anni, durante i quali abbiamo aiutato oltre 325.000 famiglie a rendere indimenticabile l'esperienza di studio all'estero, siamo sempre pronti a sostenere con la voglia i ragazzi che abbiano voglia di aprire i propri orizzonti e diventare sempre di più cittadini del mondo. Questo anche grazie alla High School all'estero. Vedete, noi che abbiamo qualche anno in più, abbiamo capito che lo studio e la formazione sono molto, molto importanti, ma imparare a vedere il mondo da un altro punto di vista, trovando il modo per distinguersi, è questo non apprezzo. Ricordatevi che questa esperienza non la fate soltanto per voi, ma anche per i vostri genitori. E datemi retta, non vi lasceranno andare così facilmente. Dovete convincerli che siete pronti e dovrete farlo essendo molto motivati. Sappiamo infatti, abbiamo ben presente, che per molte famiglie certi tipi di formazione possono rappresentare un grande sacrificio, sia economico, ma spesso anche affettivo, vedendo i propri figli partire alla scoperta del mondo, ancor più se minorelli. Questo investimento su di voi è un gesto molto importante e al vostro ritorno sarete grati con loro per queste enormi opportunità che vi porterebbe sempre nel cuore e che sono certo di cambiare la vita. Per avere successo in questo programma dobbiamo lavorare come una squadra, quindi ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Per questo vogliamo fin da subito, e senza tirarci indietro, aiutarvi ad essere pronti su quale siano le caratteristiche che dovete tenere in considerazione. E vogliamo darvi tutte le risposte per affrontare al meglio questa importante esperienza. Da sempre siamo pronti a rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, ma vediamo come. Prima di tutto è importante esservi sempre vicini. Grazie alla nostra esperienza sappiamo bene di cosa avete bisogno sia come clienti che come persone. Pensate ad esempio al servizio di coaching, pensato per i ragazzi proprio per rispondere a tutte le loro domande direttamente dal paese ospitante. Grazie al supporto di un nostro local counselor che vi aiuterà a capire come funziona il sistema scolastico e a darvi tutta la massima assistenza. Per non parlare delle garanzie e di affidabilità del nostro programma che ci vede dal 2020 una delle poche organizzazioni italiane membro del CISIET sinonimo di garanzia e di qualità e certificazione dei programmi di scambio internazionale. Tutti oggi parlano di digitalizzazione, ma che cosa intendiamo con questo termine? Bene, digitalizzazione per noi significa prendere il meglio che la tecnologia possa offrire con l'obiettivo di semplificarvi al massimo le vite. Come abbiamo fatto? Ad esempio grazie ad una piattaforma innovativa IT in grado di agevolare fin da subito i ragazzi, le famiglie, i medici, le scuole nella non sempre facile compilazione e traduzione dei moduli di candidatura. Oppure mettendo a disposizione dei ragazzi quando sono all'estero una piattaforma di comunicazione per rimanere in costante contatto con i propri compagni di classe in Italia. E ancora, tecnologia applicata nell'ambito della consulenza medica online con webinar a disposizione dei ragazzi e dei genitori su questioni mediche e psicoattitudinali prima e durante la permanenza all'estero. Ma pensate a quante domande e dubbi possono insorgere su questi aspetti soprattutto per voi genitori. Per noi la tecnologia non è un concetto metafisico ma è uno strumento reale in continua evoluzione e a vostra totale e completa disposizione. La tecnologia infatti quando è chiara, veloce e funzionale diventa in qualche modo semplice e nasconde dietro di sé tutto il nostro impegno. E non finisce qui perché per preparare al meglio i nostri ragazzi abbiamo voluto estendere radicalmente il concetto stesso di anno all'estero trasformandolo fin da subito ben prima della partenza in un vero e proprio programma formativo per fornire ai ragazzi gli strumenti per arrivare meglio preparati al giorno della partenza. Pensate ad esempio al corso di lingua inglese online al corso di debate a public speaking ideato per insegnarvi a strutturare al meglio le vostre opinioni e sostenere le proprie argomentazioni quando sarete all'estero. E voi genitori? Come non dare risposta a due aspetti che sicuramente sono fondamentali. Il primo è legato all'investimento e grazie alla partnership con Intesa San Paolo l'iSchool all'estero con noi è oggi alla portata di tutte le famiglie italiane. Siamo i primi ad essere riusciti a democratizzare questa esperienza e farla diventare realmente accessibile a tutti. Il secondo è la sicurezza oggi più che mai un valore fondamentale che riusciamo ad applicare in tutte le sue forme dall'attivazione delle migliori polizze assicurative all'affidabilità dei nostri partner passando per i programmi di guardianship che garantiscono famiglie ospitanti eccellenti fino al monitoraggio costante sull'andamento scolastico e sociale dei ragazzi. Cosa dire? Tutti noi possiamo rompere gli schemi noi l'abbiamo fatto e nel mercato di domani farà ancora di più.